venite a trovarci nel nostro showroom Tirregna Auto, la piattaforma dell'auto il Natale dello sportivo, organizzato dall'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni ha visto venerdì sera una sala consigliare particolarmente nutrita con i piccoli atleti delle varie società sportive e i loro genitori Si è trattato di un evento in cui l'entusiasmo che doveva esserci è stato attenuato dalla scomparsa dell'ex allenatore della Cavese Pietro Santin venuto a mancare proprio la stessa mattina di venerdì e ricordato con un minuto di raccoglimento ma le premiazioni ci sono state ugualmente Il vice sindaco Enrico Polichetti ha auspicato dalla sala consigliare di Palazzo di Città che il 2018 possa essere un anno ricco di soddisfazioni per la città dopo i recenti interventi voluti per riqualificare varie strutture sportive Giovanni Scarlino, presidente del CSI Cava ha avuto il merito di contare sui rapporti intercorrenti con le varie società Oltre a stare insieme stiamo facendo squadra, ha detto Scarlino esaltando il rinnovato spirito di collaborazione tra le varie realtà Nei giorni precedenti i bambini si sono divertiti nelle varie attività sportive e a un certo punto l'allenatore della Cavese Leonardo Bitetto chiamato a intervenire per dare un messaggio ai ragazzi ha ricordato la necessità di praticare sport e impegnarsi per poter crescere sotto il punto di vista personale e divertirsi e non per arricchirsi Ringrazio tutti quelli che per pura forma di volontariato e per passione aiutano tanti bambini a crescere e migliorare nello sport sono gli stessi genitori e anche i dirigenti sportivi sono parole del tecnico Aquilotto Tra i club premiati spiccano la sezione Cavese nel club Scherma Salerno la SD CSI TT Cava Tennis Tavolo il Tennis Tavolo Salerno la Virtus Nocera e il Tennis Tavolo Angri poi lo Sporting Cavese Calcio a 5 maschile il Cava Basket l'Accademia Cavese Basket la Primavera Cavese del Calcio a 5 femminile l'Atletico Poseidon e la Battipaglia Soccer Per la ginnastica Rittimi che ha ricevuto il premio l'Associazione Genitori Insieme Pregiato oltre al CSI Cava Sport al Cava Sport Vietri e alla Juvenilia premiate anche il Cava 2000 il Piccolo Stadio l'Oratorio Santa Lucia la stessa Cavese Calcio seconda in classifica in D e rappresentata ai massimi livelli da società e squadra l'ASD Axel del Pattinaggio il Cava Volley la Primavera Cavese Volley l'Associazione Cava Sport e il Kaizen Kendo Cava su quest'ultima realtà che pratica le arti marziali c'è da dire che proprio qualche ora più tardi nella palestra di San Pietro si è svolto uno stage organizzato dal Kaizen Kendo con la consegna di una targa al maestro giapponese Norito Watanabe settimo Dan ascoltiamo Giovanni Scarlino e poi il consigliere comunale Eugenio Canora premeremo praticamente tutta l'attività sportiva che in questa settimana intensissima e che sta continuando anche perché purtroppo per incastrare i tempi c'è qualcosa che c'è ancora oggi e poi si concluderà con la danza sportiva il 7 gennaio quindi 5 giorni di tutte le attività sportive che si fanno sul territorio cavese e questa sera in platea ci saranno più di 200 bambini che sono una parte di coloro che hanno partecipato in questi 5 giorni dove si è fatto tutta l'attività sportiva dalla ginnastica, al pattinaggio alla rotella alla scherma ad arrivare agli sport più standard che possono essere il calcio, la pallavolo e il minibasket Eh sì, la fine del mister Santini è stato un vero e un duro colpo per tutti noi avevamo anche ragionato stamattina sulla opportunità di proseguire ma essendo una manifestazione sportiva era diciamo inopportuno fermarci dovevamo andare avanti proprio in onore del nostro mister il mister della serie B che tutti ricordiamo anche chi non l'ha vissuto lo ricorda perché attraverso i racconti dei nostri genitori e dei nostri nonni oggi è una giornata di festa dobbiamo godercela anche come avrebbe voluto il mister e dobbiamo premiare gli sportivi cavesi perché i cavesi reagiscono sempre bene alle attività sportive è una città a cui piace praticare sport ed ecco perché come amministrazione comunale puntiamo molto sulla riqualificazione dell'impiantistica sportiva sul dare alle nostre associazioni degli spazi adeguati dove poter far crescere dei giovani talenti riuscire ad ottenere sempre più risultati sia a livello regionale ma anche a livello nazionale oggi è dedicata ai bambini e questo è il nostro obiettivo cioè da infondere sui ragazzi la cultura dello sport perché poi possano diciamo coltivare questi valori una volta poi adulti magari sportivi speriamo